La Giunta ha approvato il progetto per la riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione che prevede lavori per un importo complessivo di 3 milioni di euro. L'intervento verrà suddiviso in 5 lotti omogenei, centro storico, area nord-città, area sud, area est e area ovest. Una scelta voluta per accelerare al massimo i tempi di esecuzione e contestualmente favorire l'imprenditoria locale e rendere concreto un risparmio annuo per le casse comunali di circa un milione di euro. Saranno 8.000 i punti luce interessati alimentati da 170 quadri con la sostituzione degli attuali corpi illuminanti con il sistema di lampada a scarica, con quelli più performanti e innovativi di lampada LED, lavoro che consentirà notevoli risparmi, una gestione più efficiente del sistema e una migliore illuminazione. Dopo un'attenta analisi ai numerosi sopralluoghi effettuati in tutta la città, si è definito uno strumento progettuale in grado di aumentare la sicurezza dei cittadini, abbattendo costi e inquinamento luminoso. Una lampada LED, a fronte di un costo poco più che doppio rispetto alle lampade attuali, ha una durata 5 volte superiore, 12 anni per 4.200 ore di illuminazione annue. Grande attenzione è stata prestata anche al riciclo dei materiali, imballaggi inclusi, sempre avendo in grande considerazione le direttive europee sulla materia per contribuire all'abbattimento delle emissioni di CO2. Studiato anche l'impatto dell'intero intervento sull'urbanistica cittadina, in modo che possa risultare minimo. L'importo complessivo è finanziato con fondi rivenienti dal Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013. I lavori prevedono lo smontaggio del vecchio corpo illuminante e la riverniciatura dei pali di sostegno. La fornitura è posa in opera di sistema LED di varia potenza, nonché la realizzazione di parti di impianto di illuminazione.